buongiorno buongiorno oggi è mercoledì 7 agosto rassegna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione sarà una giornata all'insegna del grande caldo ancora una volta aumento della nuvolosità lieve abbassamento comunque dei valori massimi in regia abbiamo massimo moro allora andiamo a vedere innanzitutto quello che accade questa mattina intorno alle 6 e 30 in val pusteria siamo sulla cima di plan de colones la conca è quella del centro abitato di brunico coperta interamente da un classico mare di nuvole il cielo quasi completamente sereno già all'orizzonte andiamo a vedere la grafica per capire che cosa ci dobbiamo aspettare 34 gradi a bolzano 32 a merano 31 a bressanone 29 gradi a brunico ci spostiamo in provincia di trento nel capoluogo avremo 34 gradi così come anche a riva del garda 31 gradi a pinzolo 34 gradi a malè 31 gradi a cavalese 29 gradi a moena 31 gradi a fiera di primiero 33 gradi a borgo balsugana andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola alla stampa livello alto tesino il corriere dell'alto adegio corsia e metrobus monta la polemica e rischio è quello di una paralisi la cronaca cura del trentino assunzioni di fine legislatura deroga al turn over per le società della provincia ma solo nel 2018 ancora in provincia di trento con l'adige polizia locale corpo unico la proposta dell'assessore via 70 nuovi assunti più efficienza meno costi per una regia unica dedicata ai 450 agenti sul territorio in provincia di bolzano torniamo con il quotidiano alto adegio gli alto tesini la sanità è da migliorare il sondaggio esclusivo in vista del voto e per il 90 per cento dei bols degli alto tesini dei sud tirolesi è giusto aiutare i migranti anche il quotidiano in lingua tedesca dolomiten apre con un sondaggio dedicato proprio alle priorità da parte dei residenti in provincia di bolzano la sanità confermata e il tema dei migranti uno degli argomenti da affrontare ottime notizie per il mercato del lavoro sono 218 mila gli assunti in provincia di bolzano mai così tanti il quotidiano tag eszeitung si occupa in apertura del tema dei vaccini c'è uno strappo tra provincia di bolzano e provincia di trento la prima si allinea col governo riguardo la proroga riguardo se la proroga e il vicino trentino va in direzione opposta ci si occupa ci si occupa proprio anche delle sanzioni previste per i genitori che non vaccinano il corriere della sera onda di fuoco crolla l'autostrada sappiamo quello che è accaduto lungo la direttrice alle porte di bologna esplode un camion con il gpl una vittima decine di feriti causati dalle ondate di calore e seconda tragedia la strage dei braccianti in puglia 16 morti in soli due giorni sbanda il camioncino con i migranti all'origine di tutto la mafia del caporalato fortunatamente oggi martedì abbiamo l'inserto dedicato le buone notizie daniele cassioli le mie vittorie ad occhi chiusi i dettagli di questa vera e propria impresa che dura da 31 anni non vedente dalla nascita campione di scinautico 22 ori mondiali insegnanti di fisioterapia ringrazia i genitori per non aver mai fatto sconti riguardo le sfide della vita il solamente quattro ore flat tax taglia 1,7 miliardi di tasse alle mini imprese il nuovo regime scatterebbe dalle partite iva è tutto in chiusura vi ricordo come sempre gli appuntamenti da non perdere proseguono gli eventi a casteltirolo fino all'11 di agosto dal 10 al 12 la festa della città di merano dal 17 al 19 la festa country a prato lo stelvio il 23 di agosto l'aperitivo lungo la braseria della forst con una raccolta fondi a scopo benefico e è riaperto il ristorante forst a lagundo è veramente tutto vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33